Fida, trucco in 5 minuti Start Ok, allora questa è la situazione mostruosa ho messo il cerchetto così che i capelli stanno dietro scusate per la mia voce al di poco nasale ma sono super affreddata non so perché stamattina mi sono svegliata così quando andrò a montare il video non so assolutamente come inserire il cronometro qui da di sotto quindi fidatevi di me metterò 5 minuti non so, vedremo allora faccio partire il cronometro ma è 5 minuti la sfida o è 3 minuti allora c'è da premettere che io al mattino mi trucco veramente io credo in 5 minuti anche se il mascara lo metto sempre in macchina lo metto, quindi il tempo con cui metto il mascara è quello che diciamo in piedi, vabbè avete capito ci metto più tempo per mettere il mascara comunque partiamo questo è il cronometro io l'ho appio e parto ok, ho ansia allora parto col fono dita perché io non ho fono dita i giorni quando esco anche se comunque la mia pelle non ha particolari problemi però però sono pronta anche veloce però dato che sono costretta a mettere il correttore per le mie superocchiaie devo per forza anche un po' sfumarlo con il fondo dita altrimenti si vedebbe la luce arancio al di sotto del mio occhio ok sono già passati 38 minuti 38 minuti 38 secondi dovrei finirla un attimo magari non so come farò a fare le sobracciglie perché non avevo un po' l'idea che ansia ok diciamo passo subito al correttore non riesco neanche ad aprirlo sono già a 1 minuto e 07 non so immaginare cosa ne uscirà ok li ho messo vado con la ciglia a fissare questo fondo dita spalmato veramente male ok mi vorrei provare il mio eyeliner quindi lo faccio lo avevamo messi di eyeliner quindi non so adesso di un po' la natura come farà io ci provo oggi sono 1 di 58 mi verrà sturtissimo ma vabbè io riproduco il trucco che faccio tutti i giorni con il highlighter io ho messo un po' la mia cazzina Vabbè, non sono finta che vada bene, intanto che l'eyeliner asciuga, blush affidamente, ora si attaccherà tutto l'eyeliner, sono 3 minuti e 17, ok, un po' di terra, madonna, mi sono fatta, sembro Aibima. No vabbè, più di 40 minuti, un aiuto, un po' di tinta, oddio. E' un idioto, mascara. Vabbè, facciamo che t'arribata bene, sopracciglia, ho 20 secondi per fare le sopracciglia, vai, che non ha la punta, avrei dovuto fare la punta alla matita. 4 minuti, 4, 5, non ho più di avere il casino che c'è qui, ok. Ok, 5 minuti, finito. Vabbè, interrompa, 5 minuti, 0, 2. Allora, mi sono scordata di mettere l'illuminante, oddio. Oddio, non è malissimo, si vede che è lavorato molto poco, l'eyeliner non è male, vedete. Cioè, il blush è un po' troppo rosa, la tinta è un po' sortina, però, insomma, non è malissimo, dai. Toglio quel cerchietto. Diciamo che il fatto che io metto 3 kg di mascara, quindi il fatto che la mascara la possa mettere in macchina, mi aiuta molto, perché non spreco tempo per mettere in mascara. Vabbè, quindi questa era la mia sfida e taggo tutte, quindi lasciatemi i nomi dei vostri canali, se avete fatto la sfida, se la fate, dove le vado a guardare. Lasciate un commento se questo video si è piaciuto e vi mando un bacio. Ciao! 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 Grazie a tutti